Roach! Ghost! Rispondi, Ghost! Mi ricevete? Qualcuno mi riceve? Sono morti, Sob. Shepard ha fatto pulizia. Sto cercando di raggiungerti. Shepard ci ha traditi. Per essere traditi bisogna fidarsi. Io non l'ho mai fatto. Nicolai, rispondi. Hai la posizione? Da, sto arrivando, Price. Ma non sono il solo. I uomini di Shepard da una parte e di Makarov dall'altra. Allora li faremo fuori tutti. Non lasciare che lo facciano da soli. Comunque, ci vediamo dall'altra parte, amico mio. Sob, Shepard sta cercando di spazzarci via insieme a Makarov. Vai al punto di incontro bravo a ovest. Non fidarti di nessuno. Vai al punto di incontro. Via, via! Nicolai, qui Price. Area di atterraggio sotto attacco. Area sotto attacco. Ok, Capitano Price, arrivo. Cerchi di prendere il controllo della situazione prima del mio arrivo. Va bene, come vuoi, Nicolai. Ma vieni appena puoi. Sob, lascia che gli uomini di Makarov e Shepard si uccidano tra loro. Possiamo sfruttare le loro radio per ascoltare le conversazioni. Ora cercherò di contattare Makarov. Makarov, qui Price. Shepard è un eroe di guerra ora. Hai in mano il copione delle tue operazioni e un assegno in bianco. Dimmi quello che sai su Shepard e al resto ci pensano io. So che puoi sentirmi su questa frequenza, Makarov. Sappiamo entrambi che non durerai una settimana. E neppure tu. Makarov, conosci quel vecchio detto il nemico del mio nemico e il mio amico? Price, scoprirai che si tratta di un'arma a doppio taglio. Shepard sta usando il sito Hotel Bravo. Sai bene dov'è. Ci vediamo all'interno. Non vedo l'ora. Porta di me sono più attacchi e se arrivi prima di me. Stop! Non fatti bloccare! Continua ad avanzare verso l'avest, verso la pista! Nicolai! Dove diamo la face? Devo aggirare le tempeste di Tabbia di Kandahar. Non mi pagano abbastanza per sacrificare il mio aereo. Price, mi sto avvicinando al cimitero. Credo che non è la situazione sotto controllo. La Terraria è rischioso. Ti ricorda l'Afghanistan con i sovieti. Nicolai, sta scritto e messi a terra quel dannato aereo. Stiamo arrivando. Da strozzate! Non mi pagano abbastanza per queste missioni. E i bengala non me li regalano, cazzo! Stop! Mi vengono a prendere! Fatti strada verso l'avest, verso la pista! Capitano Price, è collo tra un minuto! Sbrigatevi se volete un passaggio! Stop! Non abbiamo molto tempo. Nicolai non rimarrà ad aspettarci. Muoviti! Elimina quell'artigliere! Tenetevi con te! Dietro di noi! A destra! A destra! Tenetevi stretti! Tenetevi forte! Nicolai, sto passando sulla pista! Ormai ci siamo! Veicoli a ore 12! Stop! Rook è morto! Prendi tu il volante! Vai verso la rampa! A presto!